A nome mio personale e dell'amministrazione provinciale che rappresento, voglio rivolgere a tutti voi gli auguri per queste feste e per il nuovo anno che ormai è alle porte. Un pensiero speciale a quanti, nonostante il clima di festa come quello natalizio, vivono in condizioni di disagio e difficoltà, ai lavoratori che stanno vivendo il dramma della disoccupazione. L'augurio più forte è che questo Natale sia un momento di riflessione per tutti, con l'obiettivo comune di lavorare con impegno affinché il futuro della nostra provincia e dei suoi cittadini sia carico di maggiori speranze e meno sofferenze. Responsabilità, condivisione e appartenenza devono essere in questi principi a ispirare e guidare le nostre azioni quotidiane. Affrontiamo le prossime sfide e le battaglie che ancora non abbiamo vinto con l'orgoglio di essere figli di questa provincia. Impegniamoci insieme e con forza per raggiungere i traguardi importanti. Auguri a tutti voi. Grazie a tutti.